Mi chiamo Alvaro D'Apollonio, sono un canto-autore. La mia passione della musica deriva dai dischi tramandatemi da mio padre, quindi partire dagli anni 60 ai Beatles fino all'hard rock degli anni 70. Le mie passioni partono indiscutibilmente dai Beatles, e da lì poi è nato tutto. Ho cominciato a strimpellare la chitarra all'età di 8 anni, e da lì mano a mano ho cominciato a scrivere i miei primi pezzi. Attualmente sono in conclusione per realizzare il mio primo album da solista, che vedrà la luce nei primi mesi del 2009. Ho cominciato poi a studiare canto tre anni fa, con la scuola Antego di Amelia Rondinella, e da lì ho approfondito tutto il mio percorso. Per quanto riguarda il mio stile compositivo, mi rifaccio soprattutto alle grandi ballad degli anni 70, quindi dai Led Zeppelin ai Deep Purple. Non avendo mai partecipato ad un festival è stata una grandissima emozione, una grandissima soddisfazione essere arrivato innanzitutto in finale, e poi arrivare secondo, e quindi a ricevere un premio riconosciuto anche dall'Asiae, e dal tutto il comune di Napoli. Spero di trovare al più presto una distribuzione per il mio album, così per coltivare finalmente il mio sogno.